la famiglia biden inizia a parlare di un piano di uscita tuttavia la la famiglia biden sta considerando un possibile ritiro dalla vita politica la famiglia biden sta considerando un possibile ritiro dalla vita politica negli ultimi giorni le notizie su una possibile strategia di uscita della famiglia biden negli stati uniti hanno suscitato notevole scalpore secondo un rapporto della nbc la famiglia del presidente joe biden ha iniziato a riflettere su futuri passi che potrebbero includere un ritiro dalla vita politica questi sviluppi arrivano in un momento in cui le sfide politiche e la pressione sul presidente stanno aumentando costantemente joe biden che è stato inaugurato come 46 zimo presidente degli stati uniti nel gennaio 2021 ha affrontato durante il suo mandato una moltitudine di crisi e sfide politiche dalla pandemia di covi 19 dalle sue conseguenze sull'economia fino alle tensioni internazionali con la russia e la cina l'elenco degli ostacoli è lungo tuttavia il presidente di oltre 80 anni ha combattuto con coraggio negli ultimi mesi però si sono intensificati segnali che le pressioni legate all'incarico stanno richiedendo il loro tributo in particolare in vista delle prossime elezioni presidenziali del 2024 molti osservatori si chiedono se biden si presenterà nuovamente una strategia di uscita potrebbe significare che decide di non candidarsi e di aprire la strada a qualcun altro in grado di portare avanti i valori e gli obiettivi politici del partito democratico un ricambio generazionale potrebbe essere considerato necessario per rendere il partito pronto per il futuro reazioni dalla scena politica la possibile strategia di uscita ha suscitato reazioni diverse all'interno della scena politica mentre alcuni membri del partito delle generazioni più giovani accolgono questa prospettiva e sperano che possa aprire la strada a idee fresche dinamismo ci sono anche voci che sostengono un secondo mandato per biden sostengono che la sua esperienza e i suoi successi come il contenimento della pandemia e il rafforzamento delle alleanze internazionali siano ancora inestimabili i repubblicani d'altra parte sfruttano l'incertezza sul futuro politico di biden per seminare dubbi sulla stabilità e sulla pianificazione dei democratici politici repubblicani di spicco pongono la domanda se i democratici abbiano realmente un successore adatto in grado di prendere il posto di biden